Ciao a tutti ragazzi, finalmente eccoci qua con il primo gameplay di The Last of Us Questo è un first play, quindi la prima volta che gioco in modalità normale Questo gioco lo sto aspettando da una vita, quindi iniziamo Sì, ma Tommy, Tommy, Tommy ascoltami, è il committente, è lui il committente, non posso perdere questo lavoro Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina Sì, ciao Ehi Fatela Un giornatone al lavoro, eh? Che fai? Ancora svegli, è tardi Oh cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto Ma è ancora oggi Tesoro, ti prego un'onore, andrò non ha forza di fare nulla Tieni Che cos'è? Il tuo compleanno Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che... ti piace? Tesoro è... è stupendo, ma... credo che sia rotto Cosa? No, 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 no Dove hai preso i soldi per questo? Droga Vanno forte le droghe pesanti Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo Sì, ti piacerebbe Buonanotte Sì, ti amare Pronto? Sara Tesoro, corri a chiamare papà Sio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Sio Tommy Pronto? Cosa voleva dire? Oh, bene Abbiamo già... Preso il controllo Cavolo, mi sono scordata di darglielo Ok, iniziamo bene qua Che bel draghettino Eh, bella cameretta Wow È un po' ubriaca, sì, ma... La sonnata Papà Babù Papà Ehi, sei qui Ehi, sei qui? In qualche modo legati all'epidemia che ha colpito la razza Di te, ti abbo lo sei Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Puoi riuscire subito a tutti C'è una bocca di gas Ehi A quanto pare alle nostre spalle stacca... Non la portare lì, deve andare... Oddio Cosa è stato? Oddio Oddio Ecco, lo dice anche lei Papà Papà Oh, è abbastanza angosciante l'inizio Ma che succede? Cioè Lì c'è il suo telefono 8 chiamate senza risposta Dove diavolo sei? Chiamami Samsung S3 Sto arrivando Beh, almeno non hanno usato un iPhone Niente, è il contrario con l'iPhone però è dappertutto Oddio Ecco, direi che è il riflesso che ho Oh, eccoti qua Eccoti qui Sara Stai bene? Sì È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte Resta indietro Papà, mi stai spaventando Che succede? Sono in recupero C'è qualcosa di estreno Forse sono malati Come malati? Oddio Sì Papà Tesoro qui Vieni 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 Io avverto No Vai Vai Oddio mio Mi hai sparato L'ho visto stamattina Ascoltami Sta succedendo qualcosa di brutto Dobbiamo andarci da qui Mi hai capito? Sì Tomi, dai Dove? Dove chiamolo è? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea Porca troia Sei coperto di santo Non è mia Dobbiamo andarcene Metà della gente della città ha perso la testa Possiamo andare via? È una specie di parassita Mi dici che è successo? Cristo Ehi, Sara Come va piccolina? Sto bene Ascoltami No ma che forte Posso girarmi intorno? E lei si sposta Nella macchina È troppo figo Il cellulare Grazie Va sempre meglio Ma il giornalista non la finiva più Ha detto dove andare L'esercito sbarra l'autostrada La quantità di tre mi si è successiva Significa che dobbiamo andarci Prendi la 71 Ando là Quanti sono morti? Forse tanti Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa Già Scusa Hubert Come è successo? Non ne hanno idea Non siamo l'unica città All'inizio dicevano che era il sud Ora parlano della costa est Della ovest Porca troia E quella è la fattoria di Lewis Spero sia riuscito a scappare Non sono certo Siamo malati? Oh certo che no Come lo sai? Dicono che siano le persone in città Noi no Jimmy non lavorava in città Hai ragione è così Siamo a posto figo Vediamo che gli serve Che diavolo stai facendo? Guida Hanno una bambina Anche noi Ma abbiamo spazio Ehi Tira a te Ehi fermi Fermi Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro Dovevamo arrivare Oh cazzo Non va bene Abbiamo avuto tutti La stessa cazzo di idea No dai ma che sfida Ehi che cazzo amico andiamo Oddio Oh cazzo amico andiamo Da cosa scappano? Andiamoci a via Ci provo Non possiamo fermarci, Tommy Non posso passargli sopra Torniamo indietro Ce ne sono anche dietro La, la, la Aspetta Vai Oh cazzo Oddio mio Papà Hey Hey Cosa? Oh merda Torna indietro Indietro Solo da qua Sono qui Forza, dammi la mano Mi che bordello Iniziamo Iniziamo molto soft La gamba fa male Fa male Dobbiamo correre Oddio, non c'è il secondo Sono piccola Senti forte Ok È morto Gio, è l'attento Non ti chiusi il tesoro È davvero fantastico Impressionante Di qua Riusciremo Papà Indietro Sono troppi Da questa parte Nel vicolo Via 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 Ci siamo quasi Quasi Piccolino Vediamo lì Sbrigati Sbrigati Ci siamo quasi! Papà! Ecco io lo sento che arriva dietro Cristo Santo Siamo al sicuro, al sicuro Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! È mia figlia, penso che abbia una gamba... Fermi, dove siete? Ok Noi non siamo malati Ho due civili qui sul perimetro esterno Istruzioni? Papà è Lucia, Tommy Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina? Ma... Sì, signore Senti, abbiamo attraversato l'inferno Ok, ci serve Oh, merda Oh, cazzo Ti prego, no Oh, no Sara Via le mani, piccola Lo so, piccolo, lo so Dio Ascolta, piccolo Lo so che fa male Andrà tutto bene, piccolo Stai con Ok Adesso ti alzo Lo so, amore So che fa male Forza, amore Ti prego Lo so, piccolo Lo so Sara Amore Oh, no Oh, no Non farmi questo, piccolo No Non farmi questo Forza, no 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 No, col... Cazzo No 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 No, no, no Ti prego Ti prego Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Ti prego, ti prego Non farlo, no Oh, no Oh, madonna Che inizio scioccante, madonna Il numero di decessi confermati ha superato i 200 Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza Centinaia, centinaia di colpi sulle strade Il panico si è diffuso dopo che un rapporto traverato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena I disordini proseguono da tre giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attagli Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri sei presunti membri delle Luci Potete ancora ribellarvi con noi Ricordate, se non perdete un buio, cercate le luci Ok ragazzi, questo gameplay finisce qui, vi aspetto ai prossimi Ciao ciao da GeneticDNA